Ne ho avanti con la cronaca, le mani dei clan sul voto. Siamo a Melito di Napoli, la camorra sulle ultime elezioni comunali. Vediamo. Un sindaco in carcere, con lui altre 15 persone, tra consiglieri comunali, dirigenti ed esponenti della criminalità. La bufera giudiziaria si abbatte sul comune di Melito a nord di Napoli e sulla coalizione di centro-destra che l'amministra. L'operazione della DIA, coordinata dalla procura antimafia, ha portato in totale a 18 arresti, tra cui il primo cittadino, Luciano Mottola, due ai domiciliari. Gli inquirenti hanno portato alla luce un sistema di corruzione trasversale basato sul voto di scambio politica camorra. Secondo quanto emerge dalle indagini, le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'amministrazione del comune di Melito iniziano con un accordo che sarebbe stato siglato nel primo turno delle elezioni il 3-4 ottobre 2021 con il clan Amato Pagano e alcuni rappresentanti di un'altra coalizione poi perdente. Questo accordo avrebbe garantito la promessa di fornire alla coalizione voti di esponenti del clan, affiliati e anche gente del Rione. In cambio del voto sarebbero state offerte somme di denaro e posti di lavoro. In questa fase, riferisce la DIA, sarebbe stato persino impedito l'esercizio dei diritti politici di una candidata al Consiglio Comunale costretta con gravi minacce, quali l'allontanamento dell'abitazione o la chiusura dell'esercizio commerciale a svolgere campagne elettorali non per sé ma per un candidato dell'opposta coalizione gradito al clan. Al balottaggio, sostintori i rappresentanti della coalizione guidata dal sindaco Mottola si sarebbero rivolti ad un boss, ucciso tre mesi fa in un agguato di camorra, per ottenere i voti in cambio di utilità. Luciano Mottola era stato eletto nelle amministrative del 2021 come candidato di un'ampia coalizione formata da liste civiche da una parte del centro-destra. Agli arresti sono finiti anche il presidente del Consiglio Comunale, Rocco Marrone, e altri due consiglieri comunali, il coordinatore per milito dell'azienda incaricata del servizio di igiene urbana, padre di un consigliere comunale già candidato sindaco alle elezioni dell'ottobre 2021. Dovranno rispondere dei reati di scambio elettorale politico-mafioso, attentati ai diritti politici del cittadino, associazione di tipo mafioso, corruzione, concorso esterno in associazione mafiosa, tentata estorsione.